Tutelare gli animali ma anche il raccolto degli agricoltori dopo la sentenza del Tar sulla cattura delle lepri a punta della contesta a Brindisi si torna tutti intorno ad un tavolo alla ricerca di una soluzione che metta d'accordo ambientalisti ed agricoltori. Risolvere il problema non è un problema semplice, non è di semplice risoluzione. Ci stiamo tentando da parecchi anni e in tutte le maniere cercando di trovare anche degli accordi comuni con le amministrazioni ma soprattutto la cosa fondamentale che abbiamo fatto in questi anni e dato alcuni risultati è quello di firmare un protocollo di intesa con le associazioni ambientalisti in modo tale da dimostrare che non c'è contrasto tra gli ambientalisti e gli agricoltori che tutti quanti vogliamo la risoluzione unitaria del problema un problema che affligge ormai il mondo agricolo e gli agricoltori qui presenti oggi con danni enormi. Gli agricoltori devono fare conti con le lepri che invadono i loro raccolti benché la zona sia considerata parco naturale, la loro economia dipende proprio da quei campi che negli ultimi anni sono stati presi d'assalto. Nessun risarcimento per i danni subiti ma neppure nessun provvedimento per scongiurarli. In linea di massima una base di accordo è stata già gettata qualche tempo fa ma questo non è stato sufficiente. Un'intesa di massima già c'è da un po' di tempo tanto è vero che da questa intesa è poi scaturito un protocollo tra le associazioni rappresentative degli agricoltori e quelle di protezione ambientale finalizzato proprio a definire le modalità di intervento e in particolare adottare, proporre al comune insomma di adottare come intergestore del parco tutte quelle misure ecologiche che siano finalizzate sia a proteggere i campi dai danni che possono essere provocati dalle lepri sia a proteggere il parco stesso e quindi gli animali che sono presenti, incluse le lepri.